Abbiamo preso un'istruttura di scuola guida, come vedete nella mobilizzazione civile di Firenze, adesso gli facciamo un bello scherzo con uno dei nostri piloti, che è Mirko, Mirko Basso, scuola distante con il Mr. Axe. La cintura ci vuole, ok, partiamo, con calma, con calma, con calma, con calma, mi ho lasciato piano piano la frizione, dato sempre un pochino più di gas e via via partiamo, ok? Dai, rimettiamo in moto, piano piano la frizione e sempre un pochino più di gas, piano 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 piano, lascia andare, lascia andare la frizione, piano piano, eh, eh, va boh, dai ci siamo, dai, 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 oh, quando cambi, levi la frizione e metti la seconda, metti la seconda della via frizione, ok? Adesso, in Cuba, così? Ok, beh, con calma, con calma, con calma, bisogna fare, ok, ok. La macchina è uscisa a mettere la macchina nello stesso pezzo, è altra, è sempre meglio ci siamo? Occhio c'è un'altra macchina dietro, sennò qui si fa un macello, c'è, ce la c'è? No, ho toccato io, bisparma. Se si non ti riesco a fare la patente, mi sa che si la può scontare, cioè, non mi sembra proprio il sistema più idoneo, eh, mi sa che stiamo parlando a questo, perché sennò qui la patente si vede anni 1800 invece ora, eh? Ti vede molto a te a questo, me lo riesco a prendere, a entrare dritto. Sì, non so, guarda. Non so, guarda. Sì, 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 non so, guarda. Eh, va bene così. Eh, va bene così, eh. Va bene, eh. Eh, te l'ho detto che bisognava andare più forte. Te l'ho detto. Che cazzo distruttore sei? Guarda come si va. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda. Vedi? Guarda come si paccheggia, guarda, guarda. Hai visto, no? Così si paccheggia. Cazzo. Te l'ho detto. Uh. Eh, più forte, più forte. Cazzo. Uh.